Noi siamo qui per costruire le coalizioni più ampie ma più coerenti, ecco. Lei non è abituata a trattare con quella gente. Una coalizione in grado di competere con le destre e vincere è la cosa che viene prima di ogni altro. Gli venga paura, ma non per me, per te. Grazie a tutti.